salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video siamo su l'e chess questa volta stiamo giocando partite blitz a tre minuti ok il punteggio sull'e chess è sempre più basso purtroppo ma il motivo è uno solo ovvero i tornei che organizziamo quando vado in live no in quei tornei tutti hanno punteggi bassi l'unico che ha punteggi alti sono io e quindi è un po la storia di nieman diciamo nieman in questo momento a 2700 va a fare tornei con quelli che hanno meno punti di lui in pratica se ne perde una per recuperare poi gli servono 3 4 vittorie addirittura comunque vediamo qui prima partita cosa sta succedendo ragazzi perché allora qui secondo me sto già meglio in questa posizione lui ha f7 debole cosa posso fare vorrei attaccare f7 però poi lui mi cattura cioè se catturo sacrifico la torre dico quindi non mi va e allora cosa facciamo se sviluppo l'alfiere non so dove metterlo quindi facciamo donna f3 semplicemente minaccio matteo ora attacco anche la torre wow abbandonato subito abbiamo vinto in 13 mosse in 12 mosse praticamente trucco micidiale taticismo è un taticismo comunque trucco micidiale incredibile bellissimo ok allora seconda partita mamma mia la prima partita è stata fulminea abbiamo vinto subito ovviamente vi ricordo di mettere mi piace di iscrivervi al canale grazie a tutti coloro che mi supportano che si iscrivono al canale siamo un po fermi è 60.700 iscritti si sale si però piano piano dobbiamo arrivare a 100.000 lo so è molto difficile ok questo avversario non mi sembra niente di speciale però questa variante insomma la devo un po rivedere perché non mi piace molto in realtà ok cavallo d7 penso la posso fare ok lui gioca cavallo per qui mi sa che devo assolutamente dare via l'alfiere un po alla karlsen no vi ricordate la partita di karlsen con l'alfiere in d3 ecco io ho giocato alfiere 3 e 6 volevo dire ok qui alfiere b4 per attaccare il pedone in e4 lui difende qui arrocchiamo purtroppo lui ha tutto il centro catturo quindi coppia dei cavalli però penso di stare peggio qui secondo me sto peggio forse doveva addirittura spingere in e5 ci poteva stare la spinta in e5 ora ora non lo so non so cosa fare lui sta preparando un attacco devastante quindi voglio giocare torre 8 per preparare la spinta in e5 lui ovviamente ci piazza l'alfiere allora io gioco cavallo h7 voglio giocare cavallo f8 ad esempio perché devo portare i pezzi in difesa non so se farla ora però se dai facciamola e niente anche l'altro cavallo devo farlo entrare in gioco insomma un disastro questa partita la prima ottima la seconda un po' disastrosa lascia il tempo che trova ok allora qui aiuto non so se riusciamo a sopravvivere a questo attacco lui vuole sacrificare in h6 questo è proprio evidente e mi sta anche attaccando f7 questo è il problema quindi cosa posso fare se sposto la donna se no alzo il pedone potrei anche cercare di alzare il pedone quindi alzo il pedone in f5 sono pronto a catturare di cavallo nel caso quindi sul pedone per cavallo per attacco la donna e mi riesco a portare anche l'altro cavallo in difesa se qui catturiamo di cavallo quindi io matto non lo vedo a pezzi siamo pari il bianco io penso che stia meglio però ora deve anche trovare le mosse giuste qui giochiamo c5 cerchiamo di aprire il gioco devo giocare sul sul centro al centro perché lui mi sta attaccando sul lato di re quindi ora voglio semplicemente catturare il pedone posso poi difendere bene lui qui gioca alfiere in e3 catturo e qui proviamo e5 però no e5 è un pedone in presa lo può catturare volendo perché io pensavo l'alfiere in d3 fosse in difesa in realtà è difeso dalla donna ah wow che mossa alfiere a7 questa proprio non me l'aspettavo ok a questo punto posso cercare anche di intrappolare l'alfiere intanto mi riprendo il pedone attacco l'alfiere in d3 due volte lui lo difende ok e qui direi di giocare b6 chissà se funziona pedone b6 molto rischiosa questa posizione ancora non mi fido per niente però se riuscissi a far fuori quell'alfiere da a7 sarebbe tanta roba ok lui mi attacca la torre in e8 io ho anche la torre in presa in c3 mi sa che sono costretto a catturare in e3 facciamo torre per e3 e qui salvo la torre difendo anche b6 perché lui vedete attacca con la donna e con l'alfiere dai c'è anche il tempo ovviamente meno male pensavo fosse praticamente persa 2371 questo sembra che sull'e chess si sia alzato il livello di gioco boh almeno così sembrerebbe non lo so da tanto che non faccio scalate sull'e chess quindi il punteggio non mi interessa più di tanto anzi o qualche volta gioco bullet mentre aspetto il video che si renderà mi metto a giocare bullet a volte e sono salito a 2540 buono eh difende difende vediamo che si fa qui mamma mia c'è anche lo scacco ovviamente c'è anche il tempo quindi stiamo attenti lui sposta la donna lì ma se gioco donna b7 cosa può fare quindi donna b7 se mi da scacco spingo il pedone mi attacca vabbè mi sta regalando un pezzo uh aiuto mi attacca la torre in e6 posso difenderla con il cavallo credo no cavallo c5 ok wow ok gli è finito il tempo meno male eh siamo a 2 su 2 ragazzi 2 vittorie su 2 non perdiamo tempo quindi prossima next one vediamo ora chi c'è ah carlos carlos 2445 un fortissimo giocatore ora la difesa francese come vedete va molto di moda praticamente la giocano tutti perché la gioca carza la gioca caruana la gioca lireza la giocano tutti allora difesa francese ok io ho giocato questa variante con alfiere d3 comunque non è male magari non è granché ma non è male facciamo a3 cavallo c3 gli scacchi come ben sapete richiedono molto studio proprio molto molto studio che peccato vero perché mi sta bene studiare ma purtroppo alle volte la differenza la fa la preparazione capite la preparazione teorica dell'apertura comunque qua siamo in una posizione che io sinceramente conosco poco perché la gioco poco provo h4 volevo attaccare il cavallo lui lo sposta in f8 e ora mi serve un piano proviamo ad attaccare la donna la donna si sposta allora difendo d4 lui gioca b5 senza paura e qui mi sto chiedendo se posso saltare in c5 secondo me si vediamo se lui mi da l'alfiere a campo scuro no lui spinge questa sembra una buona spinta comunque pedone b4 e ma non so come come reagire cosa fare cosa non fare qui siamo messi male ragazzi beh oddio anche lui era al centro anche il nero ha i suoi problemi però devo trovare una mossa qui proviamo a catturare in b4 questa me l'aspettavo ora non so se catturare quell'alfiere in d7 può fare alfiere a4 facciamo alfiere a4 anche se l'alfiere campo chiaro è l'alfiere cattivo della francese comunque lui ha catturato addirittura il cavallo assurdo ah vedi vedi ragazzi sto pensando di sacrificare la donna mossa a 21 eh attenzione rally secondo me c'ho compenso c'ho un sacco di compenso posso giocare anche cavallo d4 alla Carlsen ricordate Carlsen contro la francese piazza il cavallo in d4 non lo muove più di lì va in vantaggio però poi purtroppo non vince la partita perché sbaglia ok cosa facciamo tra l'altro oggi gioca a Carlsen non lo so cosa fa cosa farà gli serve una vittoria non riesce più a vincere ok qui c6 qui vorrei raddoppiare le torri quindi questa torre me la tengo sulla colonna anche se tocca a lui vediamo lui cosa cosa fa ci sta pensando un sacco boh troppo troppo tempo se no catturo bah guarda che roba guarda mi ha dato proprio la donna ragazzi ok facciamo il fio di 2 nei commenti mi avete scritto se dice regina cioè mi avete scritto io so che tutti la chiamano donna comunque qualcuno ha scritto guarda si dice regina non donna no no si dice donna per gli scacchisti tutti gli scacchisti la chiamano donna poi effettivamente si la regina però quando poi vai a riportare le mosse sul formulario se scrivi rr ti confondi regina quindi scrivi d questo finale sarà vinto domanda ma niente di speciale niente di che però mi è piaciuta tantissimo la prima partita dove ho vinto in 12-13 mosse con quel trucchettino e anche questa anche questa dai anche questa non è male intanto questa ancora non l'abbiamo vinta però abbiamo sacrificato la donna insomma servono più sacrifici più sacrifici la tal aiuto ora perdo questo finale state a vedere vediamo cosa succede tre partite voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo format se vi piacciono questi tipi di video quindi mettete un bel mi piace per supportarli ok spingiamo in H5 21 secondi devo stare attentissimo devo stare molto attento la situazione qui è pesante aiuto a cosa sta pensando ok qui si cattura qui spingo mi toglie la casa di 6 vedete furbo tempo ragazzi tempo 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 provo a venire dietro e poi a spingere così ora spingo il pedone vedete il tempo è proprio fondamentale quando si gioca a 3 minuti il tempo conta tantissimo è una variabile veramente molto importante che fa no vabbè assurdo comunque qui penso di stare meglio cioè penso sia vinta sta partita vediamo si si a voglia a voglia completamente vinta qui abbiamo partita completamente vinta addirittura anche il sacrificio di donna andava bene pazzesco vedete addirittura anche il sacrificio di donna più 5.5 grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale ciao e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti